Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi faccio l'anteprima di Castelli della Toscana, un gioco della Lea gentilmente offertoci in questa copia recensione dalla Ravensburger che io ringrazio di cuore immensamente, è sempre ovviamente un grandissimo piacere e un onore avere la possibilità di collaborare con voi, e vi vado a fare un'anteprima molto veloce di qualche minuto di questo gioco perché come avete visto, e ve l'ho già spiegato in video precedenti, siamo nel mezzo a un trasloco, ci stiamo per trasferire in una nuova abitazione quindi siamo anche proprio nel dramma pieni di scatele e tutto quanto, e i video Cosa Ne Penso riprenderanno più avanti di tutti i giochi dove farò un'anteprima, questa è soltanto una piccola presentazione, poi rifarò il video dettagliato con la recensione e appunto il Cosa Ne Penso. Castelli della Toscana è un gioco per farvelo veloce per tutti, è il classico gioco senza dare voti e pareri personali, quello si farà nel Cosa Ne Penso, però è il classico gioco che davvero dove prendi, porti e fai giocare fai divertire sempre chiunque, anche perché è un gioco con delle meccaniche facilissime che abbiamo già rivisto un po' in Carpe Diem ad esempio è il classico gioco dove voi avete la vostra mappa, questo ovviamente ambientato nel Rinascimento in Toscana voi siete un principe, comunque un possidente terriero che dovete andare a costruire partendo dal vostro castello o comunque dalla vostra magione, la vostra cittadina o comunque il vostro borghetto medievale e dovrete andare a espandere nelle zone e negli esagoni che vi verranno date appunto della mappa che voi stessi con i tre pezzi principali potrete andare a comporre. Il funzionamento del gioco è molto semplice, classico, bisogna sempre costruire le cose una attaccata all'altra o per meglio dire confinanti con esagoni e pezzi già messi e a seconda di come andremo a mettere questi esagoni guadagneremo più o meno punti di solito basta fare un colore, ad esempio se ci sono tre esagoni gialli collegati quando li prendete tutti e tre avete fatto un punteggio maggiore perché siete riusciti in quel dato territorio vostro, non in comune a fare una costruzione che prendesse tutti quanti gli esagoni di un tipo di colore quindi che ne so, se il castello ha dei colori verdi, riempite gli esagoni verdi con castelli o comunque pezzi di mura e cose del genere e avete fatto il punteggio è un gioco competitivo, quindi si gioca a fare il miglior borghetto cittadina medievale chi farà più punti avrà vinto a fine della partita e anche qui le meccaniche sono veloci, abbiamo le risorse che le risorse non sono di vitale importanza, si può giocare anche senza però la risorsa ti consente, soprattutto i braccianti e la mano valanza medievale ti consente di costruire strutture anche se non c'è le carte in mano perché regola del gioco vuole che te puoi costruire una struttura magari di colore giallo giocando di carte gialle una struttura di colore rosso, un esagono di colore rosso, giocando di carte rosse ma se avete soltanto una carta costruzione gialla in mano potete scartarne due di un altro colore, che ne so, una gialla e due verdi per farne diventare, queste due verdi diventerebbero una gialla consentendovi di costruire la struttura gialla o se no potete usare risorse o braccianti nel caso ci siano dei buchi degli ammanchi che non vi consentono di costruire semplicemente utilizzando le carte ora poi vi farò un video molto più dettagliato comunque come avete visto è un gioco veloce è un gioco alla portata di tutti e io in questa anteprima ringrazio ancora una volta Alea e Ravisburger per la copia forniteci e di cui vi faremo, a parte il gameplay più avanti ma vi farò proprio il video recensione e cosa ne penso tempo che un attimino vi presenteremo anche il nuovo ufficio nel nuovo appartamento dove andremo a vivere assolutamente un gioco alla portata di tutti ciao ragazzi, alla prossima